Buongiorno a tutti, siamo qui pronti per ricominciare il nostro live trading della giornata di oggi, di mercoledì 29 aprile del 2015. Io mi metto a 2.50, sono messo short adesso a 2.50 e vedo che cosa può succedere. Ecco, io ho venduto adesso un altro contratto esattamente a 3.15, quindi come avete sentito, quindi ho 2 short di 2 contratti, ad un prezzo di carico di 23.182,5. Ecco, io ho chiuso adesso la posizione a 220. Chi di voi è più fortunato può anche aspettare i 215, 210. Non avete aspettato, quindi chiuso a 220 la posizione. Quindi abbiamo guadagnato 62 punti e mezzo per due contratti, ogni contratto in totale è 625 euro.